Purtroppo leggendo i giornali e sentendo la televisione ho notato che questo rimanere chiuso per settimane, settimane, settimane fa saltare molte coppie. Litigano, si tirano i piatti, si scannano e molti anche si separano, ma molti, c'è una percentuale altissima. Allora, devo dire che qui a casa mia nessuno fiata, non c'è nessuno che osa contraddirmi, si fa quello che dico io e si va d'accordo, non ci vuole niente per andare d'accordo. Si vive, si aspetta e speriamo che arrivi il momento migliore, ma fate come me, andate tutti d'accordo, è il sistema migliore per arrivare poi al momento in cui potremo uscire e fare quello che vogliamo fare.